DELTA Ciao, sono Michele Vannucci, il regista di DELTA, e sono veramente felice di poter presentare il mio secondo film in concorso al Busan Film Festival. Grazie. DELTA è un western contemporaneo, è un film che racconta due comunità che si affrontano lungo il fiume per il controllo, il racconto di una caccia all'uomo, un film d'azione in cui i due protagonisti sono chiamati a intraprendere un viaggio lungo il più grande fiume d'Italia attraverso dei paesaggi incredibili e dimenticati, cercando di non soccumbere i propri istinti più neri, perché come ogni western, DELTA nasce da dei fatti di cronaca, da delle storie che è raccolto lungo il fiume, ma poi diventa qualcos'altro, diventa un racconto dell'anima, cercare di raccontare qualcosa che ognuno di noi tiene nascosto, questo senso di ferocia che tutti noi abbiamo e che forse in alcuni momenti, in alcuni paesaggi, tutti noi sappiamo tirar fuori, è un film DELTA che non ha né vuoi né cattivi, ma cerca di raccontare l'uomo e le situazioni che vive, quindi sono molto felice dopo cinque anni di lavoro di poterlo presentare a voi, al Busan Film Festival, grazie, a presto.